Nasce l'Accademy della Casa delle Tecnologie Emergenti. Ieri mattina a Napoli il sindaco Domenico Bennardi e il direttore del CESMA, il centro di servizi metrologici e tecnologici avanzati dell'Università degli Studi Federico II, hanno sottoscritto l'accordo quadro di durata triennale che porterà a Matera le lezioni dell'Accademy, basate su un metodo innovativo di insegnamento attraverso il quale i docenti incoraggiano gli studenti a sfruttare le tecnologie che usano quotidianamente per risolvere i problemi reali. All'incontro per la sigla dell'accordo hanno partecipato anche l'assessore alle innovazioni Alberto Acito, il direttore scientifico dell'Academy creata in collaborazione con Apple Giorgio Ventre ed il coordinatore della Casa delle Tecnologie Emergenti Gianmarco Pepe. Le iniziative saranno sviluppate presso i laboratori di innovazione della Casa delle Tecnologie che prenderanno il via presso il villaggio tecnologico di San Rocco. Il percorso, strutturato con uno degli atenei più prestigiosi a livello europeo, quale l'Università Federico II, rappresenta un investimento strategico. Matera ha l'occasione di diventare uno degli ecosistemi tecnologici più innovativi e dinamici. La scelta dei partner giusti è fondamentale per il successo di un investimento nel quale credono tanto la nostra città quanto il Ministero dello Sviluppo Economico. Il CESMA è ormai un punto di riferimento mondiale dove hanno già fatto rotta aziende come Apple, Cisco e Team. Matera potrà fare un ulteriore scatto in avanti nella ricerca, nella progettazione di soluzioni innovative per uno scambio virtuoso di competenze che genera occupazione di qualità.